Musica Dalla sala stampa della 45esima edizione della Duyador abbiamo con noi il dottor Pierluigi Faloni, romano di nascita, ex vice prefetto vicario di Padova ed oggi ad Asti. Vogliamo sapere dal dottor Faloni l'accoglienza della popolazione astigiana e le prime impressioni su questa bellissima città. La ringrazio, intanto un saluto a tutti i cittadini astigiani che mi hanno accolto in maniera molto calorosa. In questi primi dieci giorni ho stretto moltissime mani, ho avuto il piacere di conoscere le più grandi autorità e i cittadini stessi perché mi è piaciuto girare per questi rioni e vederli sempre in festa. Le impressioni sulla Duyador sono ovviamente positive. All'inizio sono rimasto un attimino in attenzione per vedere effettivamente cosa fosse e oggi sono veramente stato colpito nel cuore perché ho visto una partecipazione veramente ampia e questa partecipazione che è stata anche gestita dalla Prefettura attraverso il concorso delle forze di pulizia per credo che sia andata bene per mantenere l'ordine e la sicurezza. Non abbiamo avuto molti problemi, quindi complimenti alle astigiani, complimenti a chi ha partecipato a questa Duyador perché tutti si sono comportati in maniera eccezionale, non abbiamo dovuto fare nessun intervento salvo casi così sporadici e questo ha comportato per tutti vivere serenamente questo momento di gioia. Grazie